Archiviata anche la festa di San Valentino, la giornata che celebra l'amore, una festività che genera sentimenti contrastanti tra chi non ha un partner con cui condividerla, chi non ama le ricorrenze e chi invece abbraccia il romanticismo di San Valentino. Molte le coppie infatti che hanno festeggiato con tanto di cena all'ume di candele, in casa o al ristorante, corredata da dolci, dediche e scambio di regali. E tra i cioccolatini, i profumi e oggetti personalizzati, i fiori rimangono una costante, tra le scelte più gettonate e apprezzate. Bilancio positivo dunque anche per il settore, nonostante ci sia stato un aumento dei costi. Sicuramente San Valentino rimane una delle feste più importanti per la nostra categoria, questo è ormai assodato da tempo. La particolarità di quest'anno è stata sicuramente un aumento dei prezzi che l'utente finale ha trovato poi in ogni negozio. Da lì le scelte sicuramente sono state differenti. La scelta è andata per la maggior parte sulle rose, come ogni anno, rose rosse. Quello che è cambiato è sicuramente il numero della richiesta. Purtroppo la situazione è molto grave. Andrebbe anche data un'informazione maggiore perché comunque tanta gente non conosce la situazione e questo aumento purtroppo è avvenuto anche nella settimana di San Valentino. Quindi questo ha portato le persone a pensare che questo aumento così forte fosse dovuto alla festività di San Valentino. Ma in realtà quest'aumento ormai è continuo da mesi dovuto al caro benzina, ai trasporti, al riscaldamento delle serre. Perché comunque noi abbiamo due tipologie di problemi con i fiori. Viviamo sia l'aumento dei trasporti ma anche l'aumento del consumo energetico per il riscaldamento delle serre e per la produzione dei fiori.